Arrivano le prime conferme circa il possibile sviluppo dell'epatite acuta pediatrica in Italia. Il fenomeno viene monitorato con grande attenzione dalla comunità scientifica ed è ormai diffuso su scala internazionale. I primi casi sospetti arrivano dall'Inghilterra e mostrano una variante particolarmente aggressiva che potrebbe comportare il trapianto. Il Ministero della Salute attende aggiornamenti ed è al lavoro per analizzare i dati della Banca Internazionale. Intanto, da giovedì della scorsa settimana, con una circolare della Direzione Salute è stato elevato il livello di attenzione in Italia, fornendo a tutte le strutture della rete l'algoritmo diagnostico raccomandato dal Regno Unito e che richiedono di segnalare al Seresmi i casi di bambini che presentano epatite acuta, con esclusione di diagnosi di epatite A ed E. A dichiararlo è l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. I primi casi di epatite acuta pediatrica risalgono ad aprile in Inghilterra e in Scozia. Tuttavia, arrivano a stretto giro segnalazioni da paesi limitrofi come Olanda e Danimarca. Anche gli Stati Uniti comunicano nove casi, facendogli evitare il computo totale a 70 pazienti, numero che pare comunque sottostimato. In Italia al momento si registrano quattro casi sospetti, di cui due particolarmente gravi, trattati dall'ospedale Gesù Bambino di Roma, per i quali non si esclude la possibilità di ricorrere a un intervento di trapianto di fegato.